...effettivamente si potrebbe usare la macchina come la userei io se appunto ci fosse un prezzo adeguato, proprio come avuto meglio al posto della bici perché io ho avuto una solita salita tra l'altro e invece oltre tutto sta a roto perché il genere non è questa città che ne è una striscia e ti consente che sta in sicurezza né a piedi né in bicicletta quindi la macchina per certe ubicazioni è necessaria, estremamente necessaria, anche solo per raggiungere la stazione, un conto è fare 2 km per andare a prendere il treno un conto è farne poi 15 o 20 per andare a Firenze, quindi è tutto vero però come ha giustamente detto il professore manca un'alternativa, la mia compagna è il banco del liceo ora arriva all'Ordra da 30 anni e lei la macchina l'ha venduta da 2 anni perché non sapevo che farne perché io anche la notte se andavo ad andare al teatro prendo la mia facoltà e comunque abita in una zona periferica ma comunque a me è servita, cioè noi qui, allora anche i ragazzi vanno a Firenze il sabato sera, l'ultimo treno è alle 11 e 20, poi c'è una sita a un quarto alle 2 e noi saranno i genitori che poi ci prendono a tutta le loro sanzioni, ma comunque bene, quindi voglio dire effettivamente... Io sono venuto in macchina perché non sapevo se si finirà per 10, quindi voglio dire effettivamente un'alternativa manca, io non ho la soluzione, però se non si arriva a un abbassamento dei prezzi e si incentiva l'uso dei mezzi pubblici, come diceva giustamente la vocale di Simone non è che la vocale di Simone, ma la vocale di Simone è un'alternativa manca, è un'alternativa quello che avviene da noi, lei ha perfettamente ragione caro professore, perché a Copenhagen non hanno avuto una persona che si chiamava Giovanni Agnelli, noi abbiamo fatto la politica tutto su goma e quindi abbiamo dovuto accontentare questa famiglia che era bisognosa e abbiamo fatto tante auto. Io il treno lo amo, lo adoro, ho attrezzo molto questo filmato. La ferrovia è una cosa molto interessante, è come un'infrastruttura bipolare, perché? Perché unisce ma divide nello stesso tempo anche la strada, anche l'autostrada, la ferrovia in maniera più incisiva, demarca di più, in maniera più forte. È vero, unisce due città, ma tante volte separa il territorio. Immaginate che cosa è successo nell'Italia del sud, in Calabria, hanno fatto questa ferrovia che divide il mare e la spiaggia da tutti i paesi. Quindi è un elemento territoriale che diventa anche un elemento urbano forte, molto forte. Per esempio, Pontaseve è divisa in due, è divisa in due, cioè ci sono due Pontaseve che non si parlano. Ma questo filmato mi piace molto, perché, anzi, forse bisognerebbe farne di più, dovrebbe essere più... una serie, una serie che propongo di fare una serie revisiva sulla ferrovia, sui treni, su tutto quello che accade, sugli amori che si sviluppano, come anziché love boat, love train, questo mi sembra una buona idea, anche per l'associazione, magari potrebbe guadagnare qualcosa con questo, perché questi qua sono tutti a rimessa. Le associazioni come quella della signora e non sono scopo di lucro, sono soltanto scopo di rimessa, ma ci vogliono, perché è importante. Allora, che cosa ci dice anche questo filmato? Che cos'è questa strada ferrata? È una linea di demarcazione del territorio. Allora, però, è così invasiva che noi, quando facciamo gli strumenti urbanistici, i piani regolatori, non ci richiamano, non so come, piani strutturali, ma piani regolatori, dove si dice dove si può costruire e dove non si può costruire. Un po' come gli inceneritori che richiamano termomalorizzatori, ma sono dove bruciano la spazzatura, inceneritori si chiama. Cosa ci insegna questo? Ci insegna una cosa importante, anzi importantissima. Noi adesso, quando guardiamo la città e il territorio, dobbiamo guardare la ferrovia, la strada ferrata, in maniera più seria, in maniera da cogliere più i significati. a Scandice hanno portato la tramvia, l'amico Roger si ha fatto una nuova piazza, con edifici attorno, cioè praticamente con un capolinea di tramvia, un anonimo, quello che poteva essere un anonimo capolinea di tramvia, quello ci ha fatto una piazza, c'è vita a Scandici in quel punto, pensate com'è importante. Roger si è un genio, hanno fatto bene a chiamare lui. Allora, e chiudo, quando noi andiamo sul treno e attraversiamo il territorio e le città, quelle parti di città, forse dovremmo guardare bene le aree che ci stanno attorno, perché forse quelle aree sono delle grandi risorse e noi le potremmo sfruttare e usare molto più facilmente perché già da lì ci passa il treno. Quello che diceva prima il professore, il treno si trasforma in metropolitana, che si trasforma ancora di più in metropolitana, se noi siamo in grado di cogliere nei centri urbani e nel territorio in genere quelle aree che sono appetibili perché già ci passa l'infrastruttura. Quindi ringrazio questo firmato perché mi ha dato l'occasione per ricordare una cosa molto importante su cui io sto facendo studi da tanti anni e pensiamo che questo sia un po' quello futuro anche delle città. Grazie. Faccio solo una cosa sulla famiglia Agnelli, nel senso che non è lui che in Europa ha promosso e ascoltato lo sviluppo delle reti autostradali, dell'industria automobilistica eccetera eccetera. va detto che quando questo è avvenuto il consenso sociale era altissimo. La cosa che colpisce è che cambiando le forme di economia, cambiando i modelli culturali di riferimento eccetera, altri paesi che come l'Italia avevano puntato tutto sull'automobile compresa la Francia, la Germania, la Spagna eccetera, progressivamente hanno riaggiustato il PIR. Il risultato è che noi adesso in Italia abbiamo ancora questo predominio dell'automobile su tutto e abbiamo perso l'industria automobilistica. La Germania ha un tasso di motorizzazione molto più basso, mezzi pubblici molto più efficienti e ha tenuto l'industria automobilistica. Quindi vuol dire che ci sono anche delle strategie industriali, delle strategie politiche per cui in quel caso la Francia dagli anni Ottanta ha capito che bisognava cambiare registro e ha cominciato a reinventarsi la tramvia e adesso in tutto il mondo o le tramvie come quella di Firenze che è gestita dalla società francese o i componenti o i sistemi sono francesi e quindi loro hanno inventato, hanno creato un modello di sviluppo basato su questo mezzo ecologico. Quindi bisogna essere anticipatori dei tempi e bisogna sapere sfruttare le opportunità. È chiaro che se si vive su modelli superati poi restiamo in qualche modo vecchi e pastorati.